Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic e sono qui col primo video di FIFA 16 Siamo sulla demo che ho scaricato tipo 10 minuti fa Ho fatto la prima partita sul calcio d'inizio Con le due squadre femminili che volevo provare Che sono la Germania e gli Stati Uniti se non erro Però in questo primo video di FIFA 16 volevo provare la modalità Ultimate Team Che come l'anno scorso è presente E dovrebbe essere tipo il Foot Draft Quella nuova modalità appunto che c'è appunto Come vediamo da questa immagine Una bella immagine Quindi noi scegliamo E' la prima volta che clicco Quindi non so come funziona a dir la verità Non ho neanche visto video al riguardo Questi sono i moduli penso disponibili Sono solo questi uno, cinque Possiamo scegliere tipo il 433 di contenimento Ma sì, ma se scegliamo questo chi se ne frega Allora abbiamo selezionato questa Allora, Goetze Sergio Ramos, Busquets, Costa e Tiago Silva Devo scegliere uno di questi capitani Ovviamente Tiago Silva è il mio capitano Qui vabbè ti spiegano l'intesa Andiamo comunque a fare una sorta di partita Non so cosa devo Allora completa Anzi no, aspetta Allora portiere Seleziona Qui puoi scegliere i vari portieri Possiamo scegliere Anzi prima del portiere Magari scegliamo Eh no, si può scegliere il portiere Allora facciamo Alves che comunque è brasiliano Poi qui in difesa ci mettiamo David Luiz per fare intesa Quindi adesso ci hanno tripla intesa E quindi adesso possiamo scegliere Terzini anche di campionati diversi Possiamo magari scegliere Che ne so, Klein Che è di Premier League Come centrocampista Qui non c'è nessun di Premier League La cosa è un po' una merda Possiamo scegliere magari Gundogan E qui in mezzo mettiamo Possiamo mettere Bender Per fare tripla Con Gundogan Più intesa abbiamo Meglio E Qui come terzino Sinistro Direi di mettere Penso Alaba Mentre qui Per completare il reparto Direi di mettere Un bel Fernandinho Così proprio una squadra Stra-random Mentre in attacco Come ala Destra Beh Non c'è neanche da chiedere Il bug Ibarbo Come attaccante Non c'è neanche da chiedere Obama e Young E infine come ala Di sinistra C'è un Mendes Piatti Pedro Muniain E gli Aic Direi di scegliere Boh a me piace Piatti Mettiamo Piatti Ok questa è la squadra Una squadra Una squadra con 74 di intesa Penso che Completa la mia rosa Vediamo non so cosa viene fuori Ah qui sono tutti i sostituti Chiaramente Ah ci sono nuovi giocatori Quindi volendo Potevo Anche sceglierli manualmente Ma vabbè Non importa Io voglio fare Proprio la prima partita Con Allora scegli un allenatore Io direi di Mettere Pocettino Che quando era a Southampton Era un signore allenatore Lo è anche adesso Andiamo avanti A provare Non so Vuoi andare alla partita A modificare la tua rosa Avanti E quindi ci trova Penso un avversario Che sarà casuale Appunto Qui Ma andiamo Boh a caso Facciamo una squadra Non troppo forte Andiamo con Magari Il Borussia No facciamo il Borussia Mönchengladbach Proprio ignoranza E via Scegliamo queste maglie Che almeno sono diverse Ho messo difficoltà Campione Come vedete 6 minuti di tempo E via La partita Ok inizia la partita Qui più o meno Più o meno La grafica è molto No Più che altro Le riprese sono simili a 15 La grafica La veste grafica È decisamente modificata E quindi Andiamo subito Con la prima partita Che è iniziata Subito Una palla filtrata Per Victorone Cazzo duro Ibarbo La mette dentro Aubameyang Subito Pierre Emerick Con ignoranza Il gol dell'1-0 Contro il Gladbach Un signor gol Gran cross Di Ibarbo Attenzione Attacca Dalla sinistra Con Dermic La mette in mezzo Sta dormendo Non so David Luiz Cosa sta facendo E niente Arriva il gol dell'1-1 Del Gladbach Guardate qui Adesso voglio proprio rivederla Qui ho sbagliato Vabbè Però Cross in mezzo Di Dermic Gli passa davanti A David Luiz Poteva fare qualsiasi cosa Gol dell'1-1 Parte Pablito Piatti Pablito Piatti Sull'esterno Rientra Gran giocata Di Pablo Piatti Aspetta L'inserimento Di Aubameyang Che va davanti Al portiere E qui Non riesce Non riesce a segnare Twitter che ha giocato Per il ribarbo Per il ribarbo Può mettere Tipo un De Rossi E vincere Era importante I bassi Non è che c'è molto Da fare Fatemi sapere nei commenti Lasciate un bel like Ci vediamo al prossimo episodio Non dimenticate di iscrivervi al mio canale E lasciare un bel commento Ci vediamo al prossimo video Bella raga Ciao